il nostro progetto è modestamente una vera e propria bomba infatti è nato da un nostro lampo di genio e dalle nostre cinque menti brillanti gaga fai quattro vado io fossi in te neanche parlerei tanto però dai continuiamo e il nostro sistema è costituito da una vasca idroponica un modulo fotovoltaico un regolatore di carica una batteria e una pompa d'aria e l'idea alla base è quella di favorire la coltivazione indoor mediante l'utilizzo di conti rinnovabili e con la massima riduzione degli sprechi infatti mi ricordo quando abbiamo avuto questa idea quando io ho raccontato che mia madre è stata capace di far seccare delle piante grassi nemmeno dopo tre giorni che l'aveva presa esatto e proprio per questo abbiamo deciso di ideare un sistema del tutto autosufficiente per la coltivazione idroponica di varie specie vegetali con waterlili infatti non è necessario possedere il pollice verde per dare un tocco più esotico e verde alla propria habitazione ma uno dei nostri punti di forza è dato proprio dalla presenza un altro aspetto da sottolineare è sicuramente la manutenzione del sistema in quanto è ecosostenibile e il costo energetico è bassissimo poiché il nutrimento delle piante si ricava grazie degli scarti di cibo grazie ai quali riusciamo a ricavare i micro e maconfrienti per le piante questo aspetto del risparmio mi è molto caro in quanto io sono un risparmiatore vero e proprio e al denaro ci tengo un altro punto di forza del nostro progetto è dato dal fatto che costituisce allo stesso tempo un elemento di arrego moderno elegante ed ecosostenibile infatti non solo da un tocco di eleganza alla nostra abitazione ma allo stesso tempo ossigeno e purifica l'aria da muffe e tossine poi se volete diciamo potete coltivare in casa vostra e al sicuro dalle dalle luci blu qualsiasi tipo di erba diciamo sì esattamente potete arricchirvi e liberare in che modo e quanto volete basta che però non influenziate i miei interessi personali non dimentichiamoci quindi che waterlily unisce la possibilità di mangiare sano e auto produrlo nel massimo rispetto dell'ambiente in maniera sostenibile tutte cose molto interessanti è però alla fine la cosa più fondamentale sono i bassi costi perché alla fine sappiamo che il risparmio è meglio di tutti sì sì però non dimentichiamo delle erbe particolari e a parte le sciocchezze qui adesso mi proponiamo in modo molto stilizzato due di quelli che potrebbero essere i nostri progetti da una parte vediamo un acquario bravi bravissimi molto bello il modo di comunicare e rendere molto interessante ti fa stare diciamo al passo con l'argomento ti dico una cosa a te Sorri ti devo dire una cosa a te perché noi prima abbiamo parlato la gente e volevamo essere un po' preparati no quindi ci siamo detti anche quali erano le potenziali domande e il bello è che hanno risposto a quasi tutte le nostre domande che avevamo e per di più hanno anche trattato in maniera ironica un argomento che noi subito abbiamo entrato fuori che era quello delle erbe chiamamole illegali no perché logicamente la prima cosa che ci è venuta in mente il fatto di quanto potesse essere utile per quell'argomento anche se in maniera ironica l'avete tirato fuori anzi bravissimi perché non ci aspettavamo che le risposte arrivavano già potenzialmente all'interno della presentazione considerate che ci siamo scritti un po' un po' di domande una era grazie a tutti